Buongiorno e benvenuti qui dal Global Risk Forum all'interno della settimana del Business Leader Summit dove manager e imprese si sono incontrati e si incontreranno ancora per tutta la giornata di oggi per parlare dei principali temi che stanno guidando il business moderno. In questo momento vogliamo cercare di capire come si può davvero interpretare il rischio, quali saranno i rischi che questo nuovo cambiamento anche nella supply chain ci porterà e come sta cambiando il ruolo del risk manager. Per farlo siamo in compagnia di Carlo Cosimi che è presidente di ANRA. Innanzitutto buongiorno e grazie di essere con noi. Grazie a voi, è un piacere. Allora in questo momento dopo due anni di pandemia con una crisi geopolitica in atto ci sono dei rischi inattesi e dei rischi ignoti. Partiamo da qui. Qual è la differenza e perché è importante conoscerla? Beh è importante conoscerla perché il rischio inatteso è un rischio che comunque rientra nella mappatura dei rischi delle grandi aziende, viene considerato magari di grande impatto ma di scarsa probabilità ed è comunque monitorato. Il tema che oggi si pone è che spesso molti segnali rinerenti e i rischi vengono ignorati nelle aziende. Questi sono i rischi più pericolosi quindi il fatto che vengano ignorati. Faccio un esempio. Prima della pandemia Covid-19 nelle mappature dei rischi il rischio pandemia non era presente. Di fatto era un rischio di fatto ignorato. Tuttavia questo rischio era già presente nella tassonomia internazionale e veniva anche messo ai livelli molto alti di probabilità. Cosa che poi si è verificata. Quindi quello che deve fare il risk manager nel futuro è cogliere i segnali, cogliere soprattutto questi trend e cercare sempre di non dare per scontato che certi avvenimenti magari mai avvenuti possano in realtà accadere. Un elemento essenziale nell'analisi e nella valutazione dello scenario del rischio per un risk manager in un momento come questo chiaramente una delle sfide più importanti come si è detto in questa mattinata di lavori è la criticità avvenuta nel mondo della supply chain per le forniture, l'approvvigionamento delle risorse prime e c'è una grande difficoltà in tutto questo. Quali sono però le prospettive che questa nuova situazione in evoluzione chiaramente porterà anche nel mondo del risk management? Beh questo è la supply chain è il tema dei temi, è la gestione dell'emergenza di tutte le aziende dalle grandi alle medie alle piccole aziende. La supply chain oggi del risk si è determinata partendo se vogliamo da situazioni strutturali del sistema della logistica ma su cui si è poi creato il rischio pandemico su cui poi si sono create le tensioni geopolitiche internazionali. Quello che probabilmente sarà il futuro nella gestione di questi tipi di rischi sarà che si dovrà passare da un'ottica di globalizzazione delle catene di forniture e di approvvigionamento ad una logica di regionalizzazione. Tra l'altro questo termine è una delle prime che l'ha proprio lanciato è stato il segretario di Stato Helen americano il quale ha detto che probabilmente il mondo della supply chain globalizzata è terminato dovremo affrontare un nuovo modo di fornirci attraverso delle regionalizzazioni. Questo chiaramente impone anche un cambio di approccio da parte del chief risk officer e probabilmente anche un nuovo ruolo proprio di questa funzione all'interno dell'impresa per riuscire a guardare al futuro. Assolutamente sì, dobbiamo dire che tutti questi fenomeni di complessità nella gestione dei rischi già da alcuni anni hanno fatto crescere nella piramide aziendale l'importanza e la criticità di una figura come quella del chief risk officer o comunque del risk enterprise risk manager. È assolutamente importante che adesso però si passe da una capacità di gestione del rischio ad una capacità di previsione del rischio quindi influire sempre di più anche nelle strategie future delle aziende in modo da permettere attraverso la previsione e la gestione di questi rischi e il loro trattamento il raggiungimento degli obiettivi di business delle proprie aziende. Ovviamente ce lo auguriamo tutti, grazie di essere stato con noi. È stato un piacere, a presto. Salve a tutti.